Vzlog! Allora, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che è uscito ormai da qualche settimana il mio nuovo libro Cosa guardo? Un emozionario del cinema edito da Salani che è una guida su film e serie da guardare in base all'umore del momento diviso in sezioni, in sezioni corrisponde a uno stato d'animo e per ogni sezione ci sono 10 consigli tra film e serie quindi può essere anche un'alternativa all'algoritmo delle piattaforme di streaming lo trovate in tutte le librerie e ovviamente anche sugli store digitali in descrizione ad esempio vi lascio il link per acquistarlo da Amazon e vi lascio anche il link alla ospitata a Seiwad su Radio DJ di venerdì scorso dove sono stato ospite insieme a Betty Senatore che è conduttrice di un programma sul cinema il sabato e la domenica su Radio Capital e anche un podcast che si intitola Cosa guardo stasera quindi nel caso potete anche ascoltare il suo podcast comunque se volete vedere quell'intervento è stato registrato in video ed è su DJ TV tra l'altro ci sono vari momenti in cui ho la grondaia in evidenza perché ho i pantaloni bassi e non me ne sono accorto quindi grande figurona ma a parte quello se volete ascoltare l'intervento potete cliccare sul link in descrizione e ovviamente vi ricordo anche che sui siti dei pampling, trovate il link in descrizione qui sotto ci sono tutte le magliette in catalogo a 10,90 euro per cui ce ne sono veramente tantissime vi consiglio di dare un'occhiata perché sicuramente qualcuno che vi piace la trovate sono tutte rigorosamente a tema nerd come ad esempio questa qua del Nakatomi Plaza che io adoro e se al vostro acquisto aggiungete un paio di calze alla vostra scelta dal catalogo e usate il codice VILASZLO le calze non le pagate quindi se vi interessa sapete cosa fare ora per Abbandonare Ciacci iniziamo subito con il video di oggi sigla allora qualche giorno fa su Netflix è uscita una serie che a me interessava abbastanza era già da qualche giorno che la stavo puntando la recensisco un po' in ritardo perché avevo un sacco di cose da guardare da recuperare quindi ci ho messo un attimo perché comunque sono 8 episodi della durata media di 50 minuti a volte anche un'ora quindi ci volevo un po' per guardarla e se ne sta parlando abbastanza e posso capire come mai mi riferisco naturalmente a The Gentleman creata da Guy Ritchie se non lo sapevate The Gentleman è un film di Guy Ritchie di 4 anni fa mi pare del 2019 che potete trovare su Prime Video è in effetti bizzarro che poi lo stesso regista abbia creato una serie riguardante The Gentleman che però è un originale Netflix tra l'altro con il film non è che la serie centri in realtà è diciamo più il mood che è molto simile a quello del film però poi la storia e i personaggi sono completamente diversi non è assolutamente necessario guardarsi il film prima di vedere la serie perché in realtà non ci sono veri e propri collegamenti qualche easter egg qua e là però è più una questione di mood non è un adattamento seriale tratto dal film in realtà poi Guy Ritchie ha diretto giusto un paio di puntate quindi l'ha creata lui, l'ha coscritta, ha dato la direzione, ha diretto le prime puntate poi come spesso accade in questi casi ha delegato ad altri un po' come mercoledì che è stata per mesi pubblicizzata come la serie di Tim Burton ma in realtà Tim Burton ha diretto 4 episodi su 8 se non sbaglio che comunque non sono pochi per l'amor del cielo però poi lo stacco si vedeva parecchio e in effetti la stessa sensazione l'ho avuta con The Gentleman lo stacco tra le puntate dirette da Guy Ritchie e quelle dirette da altri registi e registe tutti e tutte bravissimi per l'amor del cielo si vede però perché Guy Ritchie è Guy Ritchie tra l'altro Guy Ritchie è un regista che io adoro proprio perché è uno di quelli che ha una sua specificità quando ero ragazzino ho sempre pensato che Guy Ritchie volesse fare un po' il Tarantino wannabe della situazione crescendo mi sono invece reso conto che magari lui ha tratto un po' ispirazione da alcuni lavori di Tarantino certo però in realtà anche lui comunque ha iniziato negli anni 90 il periodo più o meno era quello e poi alla fine lui ha uno stile completamente diverso e soprattutto lui è molto fissato con le gangster stories e ha diretto parecchi film di quel tipo da The Snatch a Lock and Stop Pazzi Scatenati Rock and Roll The Gentleman insomma ne ha fatte parecchie e ogni volta che torno sulla tematica io impazzisco perché comunque poi Guy Ritchie ha cercato un po' di esplorare altri orizzonti aveva diretto anche filmacci come Travolti al destino che era il remake del film di Levert Muller Travolti non è il solito destino nell'azzurro mare di agosto con Giancarlo Giannini e Marianne Giamelato che nel film di Ritchie erano reinterpretati e quindi i volti erano quelli di Adriano Giannini e di Madonna che all'epoca era moglie di Guy Ritchie film che fu un flop a dir poco devastante che per poco non distruggeva la carriera del regista poi nell'ambito iper mainstream ha diretto anche Aladdin il remake, il action del film Disney che comunque gli è andato benissimo perché aveva incassato tantissimo per cui lui aveva poi potuto raccimolare i soldi per fare cose che gli interessavano di più quindi ecco che crea questo The Gentleman che è tutto ciò che io adoro di Guy Ritchie è la sintesi del perché mi piace questo regista una storia di gangster bizzarrissimi con una regia molto particolare con questi inserti grafici un montaggio piuttosto serrato lui è uno di quelli che si è distinto per anni per il suo montaggio perché comunque le opere che dirigevano avevano questo montaggio ipercinetico freneticissimo che era un po' la sua firma e lo troviamo anche in questa serie i personaggi sono fantastici e ti ci affezioni subito a partire dal protagonista Edil con il duca e poi anche Susie Glass che è interpretata dalla divina Kaya Scodelario che io personalmente amo il padre di quel personaggio Bobby Glass è invece interpretato dal gigantesco Ray Winston che quando interpreta il gangster cattivone a me fa sempre bagnare copiosamente non so se ve lo ricordate in The Departed anche lì era stato fantastico con un ruolo leggermente diverso ma sempre di gangster stiamo parlando poi ho adorato Fred il fratello di Edward che si caccia sempre nei guai e poi tutto il sottobosco di criminali che secondo me sono fantastici io personalmente li ho trovati dei personaggi affascinantissimi ed è un po' quello che in ogni suo gangster movie fa Guy Ritchie anche se questa è una serie presenta personaggi bizzarri assolutamente deplorevoli ma che nell'ottica della narrazione sono personaggi che possono anche avere una valenza positiva perché ce ne sono altri ancora più cattivi quindi in realtà non è che Guy Ritchie voglia fare un'apologia della criminalità è che è tutto totalmente inventato e quasi ai limiti del fantasy come caratterizzazione dei personaggi che gli perdono il fatto che questi gangster ti siano ti stiano simpatici perché è tutto molto quasi cartunesco e secondo me qui c'è una grande influenza non so se è la mia impressione videoludica soprattutto da parte di GTA essendo una serie e avendo molto più tempo per raccontare la storia ci sono delle puntate che non è che siano propriamente filler cioè riempitive ma che servono a presentarti personaggi che saranno più importanti nelle puntate successive quindi magari una singola puntata si concentra su una storia che si apre si conclude lì ma che serve per introdurti qualcuno che avrà un ruolo importante nella macro trama nella puntata dopo o due puntate dopo e sembra un po' una roba la GTA nel senso che c'è un problema Edward Eddie deve risolverlo e quindi va dal gangster un po' eccentrico che gli dà la missione da compiere però poi ci sono sempre degli elementi che portano avanti la trama quindi non ci sono mai puntate realmente filler al massimo si prende il tempo per raccontarti una storia che sembra non c'è altra nulla poi però torna tutto quindi è una cosa fantastica è una serie che tendenzialmente si divora essendo la classica serie uscita tutta completa nella sua prima stagione chiaramente una serie che ti porta a bingiarla perché davvero è talmente coinvolgente che un episodio tira l'altro io ho cercato di centellinarla stessa cosa che ho fatto con il problema dei tre corpi io l'ho avuto in anteprima il problema dei tre corpi però non l'ho guardata tutta subito e quando la serie è uscita non l'avevo ancora finita perché perché mi sono detto guardati qualche episodio al giorno infatti ho già fatto un video sul problema dei tre corpi che però era un video preliminare perché è in collaborazione appunto con Netflix e tra qualche giorno uscirà un video full spoiler perché quello è senza spoiler in cui vi parlerò per l'appunto della serie nella sua interezza andando nel dettaglio per quanto riguarda The Gentleman siccome me la sono già centellinata perché è uscita da una decina di giorni vi faccio già il video con anche gli spoiler che arriveranno tra poco stavo facendo giusto un cappello introduttivo senza spoiler per invogliare chi magari non la conoscesse o non l'avesse ancora iniziata a guardarla a fruirla il prima possibile perché per me è una serie divertentissima buono il lato tecnico ripeto la differenza tra gli episodi diretti da Ricci e quelli diretti da altri si vede però con questo non voglio dire che chi ha diretto gli altri episodi non abbia fatto un buon lavoro è logico che Gaia Ricci è Gaia Ricci come ho detto prima è talmente specifico talmente un regista unico nel suo genere che puoi provare a stargli dietro quando ti ti scrive una sceneggiatura ma non riuscirai mai per quanto tu possa essere un bravo regista a mettere in scena tutto come l'avrebbe pensato lui però comunque va bene anche perché molte persone che guardano questa serie essendo una serie molto mainstream non sanno neanche chi cazzo sia Gaia Ricci e si godono semplicemente quella che è la storia il rapporto tra i personaggi io lo amo Gaia Ricci perché ha questo modo di fare molto britannico essendo lui però appunto inglese e lo infonde nei suoi personaggi tra l'altro c'è un personaggio che per me è pregio e difetto di questa serie ovvero Stan Johnston con la T ricordiamocelo interpretato da Giancarlo Esposito è un pregio perché porca vacca è un personaggio enorme è un difetto perché è l'ennesimo personaggio mastermind pericoloso super gangster interpretato da Giancarlo Esposito quest'uomo è un attore eccezionale io consiglierei alle varie produzioni di provare ad utilizzarle in un altro modo perché si è già il quarto quinto ruolo di fila da mastermind con gli occhi di ghiaccio che interpreta questo povero Cristo ho capito che è piaciuto un po' a tutti Gus Fring va bene però non è che si può incastrare esclusivamente in questo tipo di ruoli e Moff Gideon in The Mandalorian e Stan Edgar in questo film in The Boys e Stan Johnston in questo film basta dopo un po' viene anche a noia questo modo di utilizzare Giancarlo Esposito quest'uomo sa fare anche altro capisco che ha un volto che si presta per questo tipo di personaggi ma sono sicuro e l'ho anche dimostrato in passato perché in giro da tanto tempo non è che lui ha iniziato la sua carriera con Breaking Bad lì è diventato molto famoso ma già da molto prima faceva film e serie aveva già dimostrato di essere un attore comunque capace se magari se lo ricordassero e gli facessero fare anche altro a me proprio schifo questa cosa non farebbe però non importa quindi è una serie che ha qualche difetto perché ad esempio secondo me non erano necessari otto episodi arrivato al quinto episodio ho iniziato a sentire un po' la fatica perché pensavo va bene ma magari ci agganciamo al problema principale cerchiamo di arrivare a un punto perché per quanto mi stessi divertendo alla follia nel guardarla continuavo a pensare sì ma mi sembra che stiano allungando un po' troppo il brodo e poi per fortuna ritorna in carreggiata e gli ultimi due episodi sono molto belli molto coinvolgenti e ci sta tra l'altro mi fa piacere che Guy Ricci abbia coinvolto un suo attore feticcio un attore che io ho sempre adorato che è Vinnie Jones ex calciatore peraltro se non sbaglio uno dei calciatori con più espulsioni al mondo era un po' un macellaio che poi è diventato attore ad esempio in lock and stop mi ricordo ma se è lock and stop o lock and stop vabbè pazzi scatenati di Guy Ricci lui interpretava pallottolo al dente ed è un attore caratterista britannico che qua interpreta il guardia caccia della tenuta del duque della famiglia Geoff che è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo perché è il classico tizio che sembra mite e poi se gli fai mezzo sgarro oppure intuisce che ha cattive intenzioni ti punta un fucile a canne mozze qui quindi personaggio molto tipico peraltro della 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 lore dei film di Guy Ricci tra l'altro in questa serie possiamo ritrovare tutti gli stilemi tipici dei film del regista i gangster bizzarri i riferimenti alla nobiltà perché comunque Ricci essendo britannico deve distinguersi da chi dirige film action gangster statunitensi e quindi ci ficca dentro tutto ciò che fa parte della tradizione britannica ha uno stile molto british e poi addirittura non so le scommesse clandestine il pugilato c'era tutta una parte che mi ha ricordato tantissimo The Snatch quello con Brad Pitt insomma se siete fan di Guy Ricci impazzirete perché è una serie con tantissimi riferimenti è quello che è il suo stile più puro se non siete fan di Guy Ricci e non avete mai visto un film del regista vi verrà voglia di guardare ciò che ha diretto prima di The Gentleman perché davvero è qualcosa di irresistibile quindi al netto di qualche difetto secondo me è una serie molto molto interessante peraltro non mi risulta abbiano annunciato eventualmente una seconda stagione potrebbero farla senza problemi per quanto mi riguarda la possono anche chiudere qui in realtà ha un finale che conclude la storia principale ma ti fa capire che volendo ci sono i presupposti per un sequel ma non è necessario che è la cosa migliore quando realizzi qualcosa di cui non sai quale potrebbe essere l'esito perché comunque è vero che Guy Ricci è una garanzia però i suoi bei flop pazzi li ha fatti anche lui quindi non è uno di quei registi che ogni volta che lo proponi sicuramente ti fa successo anzi ha avuto un bel periodo in cui sembrava che la sua carriera fosse finita perché inanellava un flop dietro l'altro poi in qualche modo essendo uno furbo uno caparbio riesce sempre a stare a galla quindi ce l'ha fatta a riemergere da già da qualche anno che comunque non si ferma e propone sempre idee originali per cui a me va anche bene però ad esempio nel periodo di Operazione Uncol che era stato un bel flop sembrava che dovesse subire uno stop non indifferente quel film a me piace tantissimo peraltro con Henry Cavill e mi pare ci fosse anche Armie Hammer prima dello scandalo un film che io vi consiglierei di guardare perché anche quello è molto carino è più uno spy movie e la visione spy di Gairici io ve la consiglio perché è interessante per cui anche se comunque magari ha fatto dei flop ha sempre un minimo di appeal e mi pare di capire che la serie sta andando molto bene perché comunque è stata nella parte alta della classifica di Netflix in vari paesi per giorni e lo è ancora adesso forse è stato scalzato in molti paesi dal problema dei tre corpi ma perché è appena uscita ma comunque rimane sempre nei posti alti della classifica per cui non vedo perché non dare una possibilità a questa serie non guardarla dico io per cui questa era un po' una panoramica senza spoiler su The Gentleman adesso invece mi piacerebbe entrare un po' nel dettaglio per spiegarvi che cosa mi è piaciuto di preciso di questa serie per cui io vi abbraccio vi ringrazio se non avete ancora visto la serie se invece l'avete vista andiamo avanti con gli spoiler per cui siete avvisati allora innanzitutto io ho proprio adorato il presupposto da cui parte la serie ovvero è Eddie questo militare di famiglia nobile perché è il figlio di un duca torna a casa perché il padre sta morendo e una volta che muore perché è molto anziano tutti i suoi beni vengono dovrebbero essere lasciati al primo genito è una tradizione della nobiltà britannica primo genito che è Freddy questo omino simpatico ma cazzaro tossicodipendente fa un casino dietro l'altro sperpera tutti i soldi al gioco d'azzardo con investimenti improbabili ma a sorpresa forse perché il padre sapeva perfettamente che Eddie non sarebbe stato che scusate che Freddy non sarebbe stato in grado di amministrare il denaro di famiglia lascia tutto al secondo genito contravvenendo a quella che è una grande tradizione e da lì si scatena una serie di eventi veramente devastanti a spirale come una sorta di imbuto che porta all'inferno perché si scopre che la tenuta di famiglia nella parte delle stalle è stata affittata da una banda di gangster attivi nell'ambito dello spaccio della produzione dello spaccio della cannabis e quindi Eddie si ritrova a cercare di tirarsi fuori da questo business in cui si era cacciato il padre da cui la famiglia stava traendo comunque diversi profitti e quindi avrà a che fare con Susie Glass figlia di Bobby Glass che però è in galera e quindi fa amministrare tutti i soldi alla figlia e mano a mano che va avanti lui si rende conto che tutto sommato è bravo nel gestire gli affari criminali lui continua a ripetere che se ne vuole uscire che vuole salvare la sua famiglia però poi arriviamo al finale in cui lui decide di investire insieme a Susie e agli altri lord che avevano affittato a questa organizzazione criminale per le tenute per i vari diciamo per i vari laboratori per le varie serre e propone di gestire lui insieme a Susie l'attività questo perché perché lui continua a dire che vuole tutti fuori dalla proprietà perché lui sente che in un certo senso gli piace quel tipo di vita lui non pensava di essere tagliato per essere un criminale ma ce l'ha proprio dentro ce l'ha nel sangue glielo dice anche Freddy Freddy a un certo punto dice io ho cercato disperatamente di entrare nel business ma tu dici che io non sono tagliato e hai ragione ma d'altro canto tu sei nato per questo e il rapporto tra loro due è molto particolare perché Freddy ha una voglia di emergere incredibile ma è un inetto cioè non è neanche un coglione è proprio un inetto una persona che non sa fare nulla è proprio lo stereotipo del nobile che è cresciuto senza mai lavorare un giorno in vita sua che vuole provare a fare qualcosa nella sua vita ma non ce la fa non ci riesce non è minimamente in grado e questa cosa mi spezza perché ad esempio la parte nelle prime puntate in cui Eddie deve salvare Freddy che rischia la vita perché ha dei debiti con degli strozzini ecco quella parte fantastica perché riescono a ottenere che il debito si dimezzi ma in cambio Freddy deve fare un balletto ridicolo vestito da pollo e c'è questo gangster che è interpretato da Peter Serafinovitz che è un attore britannico che ricorderete per film come ad esempio l'albero dei morti e i dementi Shaun of the Dead lui era il coinquilino Pete se non sbaglio di Simon Pegg e Nick Frost quello che trovano zombificato sotto la doccia per intenderci e quindi lui lo umilia a tal punto che Freddy perde la testa tira fuori un fucile e gli spara è da lì è da lì che in realtà i guai cominciano per davvero perché poi c'è il fratello di questo gangster peraltro Peter Serafinovitz in tuta questa banda di pittizi che vanno tutti in giro con la tuta dell'Adidas il fratello invece è l'evangelista che ha una banda di fanatici di Dio quindi lui tipo recita il vangelo quando ammazza le persone è proprio una roba alla Guy Ritchie secondo me sono proprio quelle robe che amo e poi da lì ci sono tutti i vari intoppi per quanto riguarda l'attività questo uomo facoltoso Stan Johnston che tra l'altro cose quando si presenta la prima volta Stan Johnston with the tea e ogni volta che durante la serie lo nominano Stan Johnston compare subito quella parte in cui dice with the tea solo quella parte lì fammi un ridere ridere questa cosa per appunto lui ti fa capire che sta cercando di rilevare l'attività in maniera poco pulita e quindi è un po' l'ombra che aleggia su tutti qualunque cosa accada nella serie ti viene sempre il dubbio che ci sia dietro lui infatti dietro ad alcune cose specifiche era ovvio si cela effettivamente lui e alla fine riescono a mandarlo in galera perché lo denunciano al fisco e c'è la scena finale con Bobby Glass che sta parlando con qualcuno che è fuori dal campo quindi non è in campo non è ripreso la macchina e dice alla fine la prigione ci si abitua poi c'è il mio cuoco personale che da quando ha perso la libertà vigilata ci farà tutti i manicaretti e inquadrano per appunto Stan Johnston che dice beh dai poteva andarmi peggio e Bobby Glass che risponde questa sì che è una risposta da gentleman quindi ti fa capire che comunque tutto sommato Bobby Glass vuole tenersi buono Stan Johnston che era la sua nemesis fino a 5 minuti prima quindi questi sono i presupposti per un'eventuale seconda stagione però se la serie finisse qui a me andrebbe benissimo sinceramente perché comunque è una buona chiusura con Susie Eddie che hanno creato la loro organizzazione è semplicemente un'evoluzione dell'altra che però è sempre diretta da Bobby Glass ma adesso sono loro a gestire il grosso quindi anche questa cosa non mi dispiace così come non mi dispiace che non si siano persi in inutili romanticismi cioè per tutta quanta la durata della serie si percepisce la fortissima tensione sessuale tra Eddie che è un vero gentiluomo nel senso che è un protagonista fantastico perché anche quando è in difficoltà non si scompone mai la serie si chiama The Gentleman e noi vediamo che i gentleman sono di fatto in questo caso dei veri e propri gangster come nel film in maniera diversa e quindi Eddie è uno di quei villain che si è in difficoltà magari ha paura però trova sempre la freddezza per gestire la situazione spinosa nonostante ci sia questa tensione sessuale non c'è mai una scena in cui si baciano in cui si richiara un amore si capisce che potrebbe esserci qualcosa ma è un qualcosa che non viene mai espresso chiaramente ed è anche per questo che io spero che non la continuino e che si fermino qui perché ho paura che inevitabilmente andranno a mettere insieme Eddie e Susi e francamente è qualcosa di cui questa serie non avrebbe bisogno perché è una serie che tira fuori i sentimentalismi è per questo che mi piace poi c'è tutta la parte con Henry Collins che è il diciamo manager di pugilato del fratello di Susi Jack Glass che viene fregato perché Henry Collins si scopre che può essere in combutta con Stan Johnston e mette in atto un incontro truccato facendo combattere Jack con questo tizio sbeco gigantesco che aveva perso una ventina di volte di fila ma in realtà erano incontri truccati per appunto in modo che poi lui scommette su se stesso nell'incontro dopo ventica perso in cui vince brutalmente si fa un pacco di soldi e quindi Jack finisce all'ospedale quindi c'è questa questione di Henry Collins che forse è quello più pericoloso tra tutti quelli che si vedono che è un misto tra Enzo Ferrari e il dottor stranamore come Luke anche qui sono tutte cose molto volute ci sono tanti personaggi un po' particolari che compaiono la banda dei nomadi ad esempio la puntata della banda dei nomadi mi ha ammazzato perché poi è anche quello è una tematica che ritorna in The Snatch c'erano i nomadi gli zingari che non volevano essere chiamati zingari ma nomadi ha proprio preso il grosso della sua produzione l'ha condensato in una serie perché effettivamente se non sbaglio lui a livello seriale non aveva mai fatto nulla quindi per la prima volta che fa una serie ha cercato di fare qualcosa che riflettesse molto quello che è il suo stile quella che è la sua filmografia progressa anche perché comunque c'è uno che è in giro da più di 25 anni è uno che ha accumulato ha accumulato un bel curriculum cioè se voi andate a vedere finché a diretto sono parecchi e buona parte di questi sono diventati dei piccoli cult quindi non è l'ultimo degli stronzi è uno che ha ancora qualcosa da raccontare francamente c'era stato un momento in cui ho pensato forse gli dici non ha più molto da dire non c'è più molto che possa raccontarci invece mi sbagliavo perché poi se n'era uscito con Rock and Roll Operazione Uncol era un film tratto da una serie The Man From Uncol degli anni mi pare 60-70 anche quella di spionaggio una roba alla Mission Impossible ma britannica per intenderci quindi da quel punto di vista perché anche Mission Impossible era una serie penso che lo sappiate un po' tutti ormai quando si parla di Mission Impossible si pensa ai film però il primo film di The Palmer era tratto da una serie sembra anche quella degli anni 60-70 quindi Ricci doveva trovare una formula perché funzionasse una serie che portasse il suo nome anche se poi non l'ha gestita del tutto lui non importa il soggetto è suo i personaggi sono suoi le prime puntate della diretta è lui è una sua creatura che poi ha delegato ad altri però l'ha supervisionata si è assicurato che chi subentrava scrivesse e gestisse la storia in una maniera che fosse confacente a suo stile quindi è un prodotto del tutto suo quindi in fin dei conti ha tirato fuori qualcosa di molto interessante poi io adoro Freddy che per appunto a un certo punto è talmente arrabbiato all'idea che per l'ennesima volta Eddie ha dovuto tirarlo fuori dai guai che propone a Susie Glass e si propone a Susie Glass dicendo guarda io ho creato una varietà di erba di marijuana che ha le proprietà della cocaina e ricordati che se dovesse succedere qualcosa a mio fratello eri dito tutto io perché lei era contrariata per il fatto che Eddie volesse levarsi dalle palle perché il padre aveva detto guarda che non lo facciamo andare via e infatti Eddie trova il modo migliore finge di tradire Bobby Glass con Stan Johnston fondandogli dei finti nominativi degli altri lord in cui c'erano le varie proprietà dell'organizzazione dove c'erano gli altri laboratori e da così un finto vantaggio a Stan Johnston facendogli credere che sapendo i nomi dei vari lord lui avesse il vantaggio di capire dove fossero le proprietà che era un segreto era ciò su cui si fondava l'organizzazione solo che ovviamente riesce ad ingannarlo e Stan Johnston che è un uomo caparbio per una volta viene fregato perché era convinto di avere un vantaggio e non ce l'aveva quindi a un certo punto diventava inutile questa cosa che credeva di sapere quindi è una serie caratterizzata da una secondo me è una regia comunque buona un montaggio meno frenetico di quello che mi sarei aspettato da un prodotto Igarici ma comunque i momenti di montaggio ipercinetico ci sono adoro l'inserimento delle varie grafiche quando si fanno i vari ragionamenti i vari calcoli e poi c'è una puntata in particolare che a me ha fatto impazzire che è quella in cui cerca di convincere il rampollo di questo altro nobile appena passato a miglior vita a ospitare la struttura che attualmente c'è nella tenuta di famiglia quindi dice la trasferiamo là visto che noi ce ne vogliamo andare solo che lui dice io sono un attore sto per firmare un contratto per un grosso film di hollywood e ho questo problema c'è questo giornalista che vuole sputtanarmi per via di una cosa che ha acquistato mio padre lui ha un fascicolo su degli acquisti che ha fatto mio padre e anche se io non c'entro non voglio essere sputtanato se sistemiamo questa cosa non ci sono problemi facciamo trasferiamo tutto da me il punto è che poi c'è il colpo di scena quando portano il giornalista lo trovano lo portano lì lo pagano e dice dammi il file il fascicolo così lo brucio il giornalista rivela che in realtà la cosa scottante non è sul padre ma proprio sul ragazzo e scopriamo che questo nei sotterranei ha un piccolo museo privato con i quadri di Adolf Hitler e il testicolo perduto sempre di Adolf quella roba mi ha fatto impazzire perché ho detto c'è solo Guy Ricci poteva ficcarci dentro i nazisti facendoti anche sbellicare dalle risate perché è tutto totalmente sopra la riga allucinante poi è una tematica con cui sai non è che si può scherzare più di tanto ma lui lo fa in una maniera talmente cartunesca talmente assurda che non ce la faccio perché ancora ancora si parlava dei quadri di Hitler era tutto estremamente inquietante quando però poi tiro fuori il vaso con il testicolo di Hitler io li stavo morendo ho detto no vabbè ma è un cazzo di genere ma come gli è venuto in mente di mettere il fanatico nazista che c'ha la palla di Hitler non lo so ma poi un'altra cosa che adoro di The Gentleman è il fatto di giocare tanto con la struttura temporale ad esempio ti inserisce delle scene che magari hanno un patos e un apice un climax incredibile e poi stacco siamo già a un momento successivo e non ti fanno vedere cosa è successo poi mentre parlano ti fanno vedere in sequenza un montaggio rapido di quello che pensi che ti avresti aspettato di vedere poco prima è bellissimo questa cosa ad esempio quando gli Scraus che sono quelli di l'evangelista eccetera vanno a casa di Eddie stanno per ammazzare tutti perché hanno perché Susie convinta che Eddie li avesse traditi a lei a suo padre e avesse causato il pestaggio del fratello decide di telefonare all'evangelista e dire guarda che tuo fratello l'hanno ammazzato il duca e suo fratello e allora tu li pensi che cosa sta succedendo c'è una tensione incredibile le musiche che crescono e poi stacco e vediamo Bob Elgras che parla con loro due e dici sono sopravvissuti ma come e poi va indietro in flashback e ti fa vedere cosa è successo ed è un espediente che viene usato altre volte è una cosa che ho apprezzato così come ho apprezzato il fatto che in ogni puntata ti presentano un gangster particolare e poi alla fine li contattano tutti per vendere l'attività e poi li fanno fuori uno per uno anche la tizia quella che collabora con i mi pare siano i boliviani i colombiani mi ricordo comunque con con il cartello sudamericano per intenderci quella della concessionaria clandestina di auto sportive ecco quella parte anche lì mi ha fatto morire sono tutti personaggi super eccentrici e quindi è interessante ci sono tante cose che mi sono piaciute di questa The Gentleman proprio a livello anche degli espedienti utilizzati le musiche anche a queste musiche che vertono sulla musica classica a un certo punto che fa tanto nobilità peraltro c'è un discorso molto bello di Johnston in cui parla del fatto che una cosa che lui ammira dei nobili è il fatto che sono i primi gangster i nobili hanno ottenuto quello che hanno nell'antichità rubando e poi hanno costruito una società in cui l'ordine e il sistema fa in modo che solo loro possano ottenere sempre il potere di anno in anno di decennio in decennio secolo in secolo e così via millennio in millennio quindi è proprio l'idea che siano dei gangster che si sono nascosti dietro l'idea della nobiltà e che hanno creato una sorta di oligarchia ed effettivamente è molto bello come concetto per cui io penso che The Gentleman sia veramente una serie con tante cose interessanti poi è vero che ci sono delle lungaggini che si potevano tranquillamente evitare che forse arrivando verso la fine diventa tutto eccessivamente rapido cioè per me c'è qualche problemino di ritmo potevano accorciare molto prima alcune cose per non arrivare con la fretta nel culo verso la fine gli ultimi due episodi sono un po' con l'acceleratore premuto quando avrebbero potuto tranquillamente togliere delle parti non dicono necessarie ma che si potevano asciugare e condensare un po' tutto ripeto per me sei puntate sarebbero state più che sufficienti ma non è solo quello il problema il problema è che prima diventa un po' lente poi rapida in maniera eccessiva poi come sempre su Netflix non so perché molto spesso l'ultima puntata della stagione di una serie tende a essere una delle più brevi e questa cosa mi fa girare i coglioni che avete idea ce l'hanno anche su Disney Plus sta roba che magari fa la serie Star Wars e l'MCU in cui fanno puntate magari di un'ora e mezzo che non servono un cazzo oppure che spiegano poco e raccontano poco e poi fanno le ultime di pochissimi minuti tipo non so 20 minuti 30 minuti in questo caso sono mi pare una quarantina però ce ne sono alcune che sono più di 50 quindi secondo me avrebbero potuto fare un ultimo episodio non dico di un'ora ma meno di un 50 55 minuti si poteva fare però vabbè comunque per il resto è una serie che secondo me è molto divertente funziona in molte sue parti e in definitiva io la consiglio assolutamente anche perché mi sono innamorato di ciascuno di questi personaggi ognuno di loro è riuscito a regalarmi qualcosa mi è piaciuta anche la madre la sorella c'è anche questa cosa della madre che ha nascosto che in realtà il vero padre della figlia non era Archibald il duca ma era per l'appunto Geoff il guardia caccia Vinnie Jones anche questa cosa è carina non è che sia essenziale per la trama ma è interessante per i personaggi perché te li rende umani te li mette sotto una luce differente è bello vedere il legame tra loro due poi per l'amor di dio si poteva anche non inserire quella cosa però per qualche motivo mi è piaciuto e poi c'è Jimmy che è il fattone che si occupa della piantagione che non fa altro che combina le casini e la cosa che mi fa ridere è che non lo puniscono mai e qualcuno mi ha detto sì ma non è realistico ho detto raga ma non c'è niente che è realistico in questa serie è tutto finto è tutto esagerato è tutto cartunesco è divertente proprio il fatto che sia un fattone che fa cazzate e altri personaggi che fan cazzate li puniscono lui no perché è come se gliele facessero passare perché è talmente un animo puro è talmente sempre fatto che pensi vabbè però poverino cioè non ti dispiace a doverlo punire capito quindi è anche interessante e poi menzione speciale la devo dire a Kaya Scodelario perché è stata molto brava nell'interpretare la gangster dal cuore di ghiaccio che però sotto sotto i sentimenti li prova quindi davvero se non l'avete fatto guardatevi The Gentleman perché per me è una serie assolutamente da recuperare con i suoi pregi e i suoi difetti quindi io ti abbraccio ringrazio grazie per aver seguito un altro tanto bene noi ci vediamo a prossimo ciao a tutti grazie a tutti